Hans Nicolussi Caviglia si trasferisce dalla Juventus in prestito alla Salernitana. Nato il 18 giugno 2000 ad Aosta, è cresciuto nella Juventus facendo tutte le giovanili. L'8 marzo 2019 ha 18 anni, ha esordito in Serie A con Allegri, in Juventus Udinese 4 a 1 per 10 minuti. Centrocampista molto tecnico, di qualità, giovane e promettente, la stagione successiva fu mandato in prestito in Serie B al Perugia, dove collezionò 30 presenze segnando anche due reti. Ottima stagione tra i professionisti, quindi tutto pronto per il grande salto in Serie A, e quindi stagione 2021 prestito al Parma. Ma purtroppo al Parma Hans non gioca praticamente mai, tranne un paio di presenze in Coppa Italia condite da altrettanti assist. L'inizio del suo calvario è datato 15 dicembre 2020, in allenamento, rottura del legamento crociato. Fino a quel momento Nicolussi Caviglia non aveva mai avuto infortuni, era sempre stato integro ed era cresciuto anno dopo anno tra le giovanili della Juventus. Con quell'infortunio, stagione finita e prestito al Parma, che praticamente non c'è mai stato. Hans torna sostanzialmente al J Medical per tutte le terapie, per riprendersi da quel brutto infortunio, e spera di vedere la luce nella stagione 21-22. Quando resta alla Juventus, ma non riesce praticamente mai a giocare, prima dei playoff Serie C con l'Under-23 a maggio 2022. In pratica due anni di infortunio per un legamento crociato. E non per un secondo infortunio successivo alla ripresa, ma per un problema molto più particolare. Come Nicolussi Caviglia ha poi raccontato sul suo profilo Twitter, aveva un problema di ingrossamento e di infiammazione del ginocchio operato ogni qualvolta facesse anche solo un po' di corsa, il che gli impediva sostanzialmente di riprendere a giocare a tutti gli effetti. Dopo averle provate tutte per capire quale fosse l'origine del problema, visto che neanche la risonanza magnetica evidenziava nulla di strano, ha deciso con la Juventus di procedere con un'artroscopia diagnostica ed è lì che ha scoperto che il problema era generato da residui dell'operazione precedente che erano rimasti nel ginocchio. Qualcosa di assurdo che lo ha portato ad un calvario sostanzialmente bloccando la sua crescita agonistica come calciatore. Mesi e mesi di stop con fastidi continui di cui non si riusciva a capire la ragione. Deve essere stata ed è stata molto dura per Hans, come egli stesso ha raccontato. Ma risolto il problema, è potuto tornare a giocare andando di nuovo in prestito, di nuovo in Serie B al Sud Tirol, dove ha giocato tante partite in questa prima parte di stagione 22-23, mettendo a segno anche due reti di cui una in Coppa Italia. E così Hans ha conquistato le sirene della Serie A, di nuovo, ma stavolta sul serio, con la Salernitana che ha trattato con la Juventus l'interruzione del prestito con il Sud Tirol, con un accordo di prestito gratuito che però prevede un diritto di riscatto in favore dei campani e un diritto di controriscatto in favore della Juventus. Quindi Hans Nicolussi Caviglia, dopo la lunga trafila bianconera e tutte queste vicissitudini, potrebbe dire addio alla Juve. Ma forse non per sempre. La speranza, infatti, per i tifosi come me che hanno visto crescere Hans nelle giovanili della Juventus è che il suo percorso in bianconero non si sia interrotto definitivamente. Ma intanto c'è la speranza che possa fare grandissime cose alla Salernitana. Nel suo post Instagram, in cui ha ringraziato e salutato il Sud Tirol, leggiamo però una frase abbastanza emblematica. Scrive infatti Voglio ringraziare anche i tifosi del Sud Tirol che sono stati in questi mesi un sostegno importante. Tutti insieme abbiamo vissuto un momento significativo e speciale. Proseguo la strada ma porto queste esperienze e queste persone con me, io non dimentico. Crede nei giovani non a parole ma con i fatti. È un riferimento a qualcuno? Non credo che Hans volesse fare polemica, ma la sua è un'affermazione importante. C'è qualcuno che crede nei giovani solo a parole. Auguriamo il meglio a Hans Nicolussi Caviglia nella Salernitana, in Serie A e che possa continuare a fare strada senza più intoppi perché ne ha avuti troppi. Lui che oltre ad essere un calciatore forte è anche un ragazzo molto intelligente, dedito a ottime letture e all'ascolto di tanta buona musica. E che un giorno da calciatore forte possa tornare alla Juventus per rendere la Juventus ancora più forte. Grazie a tutti.